Il Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi, dopo i lunghi mesi di restrizione della fase più acuta della pandemia, guarda con fiducia alla ripartenza e alle nuove prospettive per il turismo del territorio. Abbiamo passato dei mesi difficili, però secondo noi, anche secondo i nostri operatori, che abbiamo fatto un piccolo sondaggio interno al Consorzio, le prospettive sono buone. Secondo noi siamo anche un po' fortunati, essendo vicino alla pianura Veneta, quindi lavoreremo sicuramente con un turismo di possibilità, però vedo anche arrivare le prime importanti prenotazioni dall'estero, soprattutto dalla Germania e dall'Austria. Fra le proposte per l'estate, la seconda edizione di Discovery Valbelluna, che prenderà il via dal 12 luglio. Questa serie di visite guidate, gratuite, per chi soggiorna nella Valbelluna, quindi chi verrà a soggiornare noi nei mesi di luglio, agosto e settembre, potranno sfruttare di queste visite guidate quasi durante la settimana. Si tratta di 26 visite guidate sul territorio, proposte in giorni infrasettimanali, organizzate in collaborazione con l'Unione Montana-Feltrina, i comuni di Belluno, Feltre, Ponte nelle Alpi, la Camera di Commercio di Belluno-Treviso, insieme alle guide turistiche e naturalistiche dell'area Valbelluna. Fine ultimo la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze storico-culturali e naturalistiche. Ma vi sono altri progetti in campo, come quello in sinergia con le province di Treviso e Vicenza, allo scopo di promuovere le attività sportive all'aperto che si possono vivere nell'area del Monte Grappa. Abbiamo partecipato a un bando a regia regionale per il turismo di Nicchia, però importante per noi, noi abbiamo scelto il turismo sportivo, questo bando che noi abbiamo dominato 4x4, che comprende il neve, il Monte Avena, il palaghiaccio per quanto concerne la stagione invernale, poi i cammini, quindi le gare, molteplici gare a piedi che si fanno nel nostro territorio e anche le escursioni nel Norgue Walking, quanto concerne l'acqua, quindi il canyoning e tutto quello che segue, anche il parapendio. Aspetteremo settembre per vedere se siamo entrati in graduatoria, ma io credo che sì, perché ci abbiamo lavorato molto e spero che abbiamo lavorato bene. È un bando all'80% a fondo perduto, quindi molto, molto importante e si basa su 750.000 euro di investimento.